La pace dei santi sia con voi. Il 6 dicembre la Chiesa celebra la memoria di San Nicola di Bari, vescovo. Nicola proveniva da una famiglia nobile. Fu eletto vescovo per le sue doti di pietà e di carità, molto esplicite fin da bambino. Fu considerato santo anche da vivo. Durante la persecuzione di Diocleziano fu imprigionato fino all'epoca dell'editto di Costantino. Fu nominato patrono di Bari e la basilica che porta il suo nome è tuttora meta di parecchi pellegrinaggi. San Nicola è il leggendario Santa Claus dei paesi anglosassoni e il San Nicolaus della Germania, che a Natale porta i doni ai bambini. San Nicola è anche patrono della città di Lecco. Auguri a tutti i lecchesi. Buono nomastico a tutti coloro che porta il nome di San Nicola ed auguri a quanti il 6 dicembre festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacca, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.